Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci hanno recentemente sorpreso i fan con un video su Instagram dopo la loro rottura. Nonostante la fine della loro relazione, durata tre anni, i due ex fidanzati hanno deciso di mostrarsi uniti in un momento di rara maturità e rispetto reciproco. Dopo vari battibecchi e tensioni, Francesco e Drusilla hanno annunciato la loro decisione di mantenere un rapporto amichevole. Hanno dichiarato, in un mondo dove ormai l'odio e la rabbia fanno da padroni, noi abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso, di volerci bene anche se la nostra storia è finita. I rapporti con il tempo si modificano, prendono altre strade. Non per questo devono sfociare nell'ira, nella vendetta e nel rimorso. L'amore può trasformarsi in amichevole bene. Francesco ha voluto chiarire la situazione nel video, premetto che non ci siamo rimessi insieme, però dato che sembrava che dovessimo farci una guerra social, abbiamo deciso di parlarci, di confrontarci e di risolvere le cose fra noi. Siamo maturi e ci vogliamo bene. È una persona importante con cui ho passato degli anni. Infatti, abbiamo deciso di non eliminare le foto di coppia sui social. Lei è parte dei miei ricordi e del mio passato. È la prima ragazza con cui non mi lascio in cattivi rapporti. Ragazzi, se ci sono riuscito io, ci potete riuscire tutti. Questo gesto di maturità ha colpito profondamente i loro follower, che hanno apprezzato il loro approccio positivo e rispettoso. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.